Da parte mia sto andando il massimo per questa squadra e dovrò sempre col tempo fare meglio, cercherò di fare meglio. La squadra non è stato un buon avvio, però ora stiamo dimostrando che la Fiorentina c'è e andrà sempre meglio. Il mister ci dice, come a me, e lo dice sempre a tutti, che cercare di vincere qualcosa perché siamo davvero una grande squadra quest'anno e lo dimostreremo col tempo. Il giocatore lo sta dimostrando anche nel campo e se l'abbiamo ambientato davvero molto bene in questa formazione perché si è subito messo a disposizione della squadra e staranno il massimo come tutti noi dietro e stiamo lavorando molto bene in fase difensiva. Infatti ultimamente stiamo trovando la solidità che cercavamo da tante partite. Da un inizio un po' burrascoso con il Milan, che abbiamo preso 5 gol, ora per fortuna stiamo trovando questa solidità che ci serviva.